A Villa Rosa di Martinsicuro continua ad aggravarsi la situazione dell'erosione del lungomare sud, degenerata in questi ultimi tempi dal mare in tempesta, alimentato dalle forti correnti. Una questione che si è acutizzata nel tratto geroso nello spazio tra il primo e il secondo pennello collocati in prime dell'estate della regione. Il mare ha scavato la sabbia sotto il tratto di pista pedonale e il rischio concreto è quello di un grollo dello stesso se non saranno effettuati interventi tamponi immediati a protezione delle strutture rigide del lungomare. È una situazione che conosciamo da tempo, che gli interventi fatti anche la scorsa estate hanno mitigato purtroppo solo in minima parte. Abbiamo chiesto già dal mese di novembre un intervento di sommurgenza, so che la regione Abruzzo ha prontato delle risorse per poter intervenire. Chiediamo di fare presto perché chiaramente le ultime mareggiade di questi giorni stanno peggiorando. È un problema non solo più dal punto di vista turistico di erosione della spiaggia, è un problema veramente di incolumità perché l'acqua è eroso, anche la sede stradale e quindi rischia di crollare meno una parte di sede stradale, quindi bisogna fare in fretta. Quale potrebbe essere l'intervento? Sicuramente la messa in sicurezza dell'area con dei massi, quindi con un'area dente importante che possa quando meno difendere la strada. Dopodiché chiaramente andranno a programmare tutte quelle attività per garantire la prossima stagione turistica e balneare. La nostra è una città che vive di turismo, vive di turismo balneare, quindi abbiamo il dovere di cercare di dare una prospettiva in un tratto che è quello di Villa Rosa Sud sempre più eroso. Purtroppo il problema di erosione lo conosciamo, è un problema che noi abbiamo in Villa Rosa Sud ma abbiamo anche a Martinsicuro Centro e quindi dobbiamo fare in modo di programmare per tempo determinate risorse perché se non facciamo così poi i danni sono maggiori rispetto a quelli attuali, quindi magari quello che adesso si potrebbe fare con determinate somme poi tra qualche mese potrebbero più non bastare. Noi ci troveremo veramente in grandissima difficoltà, quindi chiediamo alla Regione Abruzzo, l'Uffici Tecnici di fare presto e di mettere a meno subito in appalto quell'intervento di somme urgenze per poi programmare le altre risorse.